Con la rivoluzione di quello che fai qui oggi, è credito alla meravigliosa Franky Manning. Quindi quello che state a fare noi qui stasera è a ballare gli idioti. Lo dobbiamo tutti quanti a Franky Manning che ha la sua grande passione e alla sua umiltà. Grazie a tutti i miei! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. I want you to tell me, all right, sono what? Sono felice? Di essere qui. Sì, sì, sì. Ladies and gentlemen, Norman Miller. Roma, we did it yesterday. Yeah, we'll do that in a minute. We did it yesterday. Can we sing a happy birthday one more time? Thank you. Here we go. Everybody ready? Let's do it in Italian. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for coming, Lola. Thanks for coming, Lola. Thank you. Grazie.